Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nel pieno centro del capoluogo ionico, precisamente in via Pupino, angolo via Pitagora. Vogliamo occuparci di una situazione che è stata sottoposta alla nostra attenzione da parte di alcuni diversamente abili, ma per la verità già conoscevo la problematica. In pratica uno scivolo, chiamiamolo scivolo per disabili, un accesso più comodo per i disabili, contrassegnato, identificato attraverso i mattoni bianchi, e si trova praticamente accanto ad un manto stradale completamente sconnesso, dissestato. In pratica si è proceduto a rappezzi. Il manto stradale sprofonda, si apre una piccola voragine, c'è la buca e alla bella e meglio così si mette del catrame. Come si vede qui, si vede anche il colore del catrame più scuro, ossia più recente. È tutta una zona dissestata. Già per un normo dotato diventa difficile poter evitare di cadere. Vi posso assicurare che si cade in maniera praticamente scontata, per così dire, ma immaginate il disabile. Ecco qui sotto i miei piedi si sentono proprio, come dire, i vari avvalli, i vari dune e cunette, potremmo dire. Anche, anche addirittura, proprio qui il punto di raccordo tra il manto stradale e lo scivolo, chiamiamolo lo scivolo impropriamente, e praticamente c'è un grosso dislivello, un evidente dislivello. Immaginate la carrozzella, le difficoltà che ha appunto per superare questo gap, questa distanza. Per chi sta bene, possono sembrare aspetti così eccessivi, secondari. Immaginate, immaginiamo di metterci nei panni di una persona che già è stata colpita duramente da madre natura e anche l'inefficienza amministrativa, e proprio l'inefficienza amministrativa, rende ancora più amara la sofferenza. E' una, ripeto, parliamo di una zona centrale di Taranto, ma mi domando come mai a Taranto tante strade, alcune strade vengano rifatte, questa è la domanda, strade per le quali magari non c'è tutta questa necessità di rifarle, e invece in pieno centro noi assistiamo a un qualcosa veramente di incredibile, di assurdo, non so come spiegare una cosa del genere. Mi sono rivolto circa, abbiamo avuto modo di sentirci con il vice sindaco Tilger, ho sottolineato la cosa, mi ha detto, la metteremo, vedremo in rapporto appunto al piano degli interventi in materia di lavori pubblici. Io mi rivolgo all'assessore ai lavori pubblici Motolese, confidando nella sua sensibilità, affinché tra le varie strade sia data la priorità a questa strada, perché già di per sé è sconnessa, ma immaginate, immaginate la sofferenza per un disabile, per me chi soffre viene prima di tutti gli altri. Purtroppo Taranto deve crescere molto ma molto in termini di uguaglianza, in termini di parità dei diritti. Da Taranto, via Pupino, Angolo, via Pitagora è tutto. Lo sportello del cittadino vi saluta, alla prossima. Grazie mille! Grazie a tutti